È un contributo che diamo alle famiglie per aprire in serenità e in sicurezza, una mascherina molto graziosa, adatta per i bambini, fatta di tessuto ma certificata come mascherina chirurgica perché il tessuto è la parte esterna a contatto con la pelle, ma è certificata dall'Istituto Superiore di Sanità, lavabile per 20 volte, quindi un ottimo prodotto realizzato da una industria abruzzese che ha vinto la gara e ne siamo quindi doppiamente felici ed orgogliosi e però non è un prodotto facilissimo da trovare perché la commercializzazione delle mascherine chirurgiche avviene principalmente per le mascherine di questa misura, di questo formato per gli adulti, non tutte, sono poche le aziende che la producono per i bambini, è più difficile reperirle e quindi è un nostro piccolo contributo per mettere le famiglie in condizioni di poter mandare i loro figli a scuola nella tranquillità.